Capitolo 54. La paura di Yudhisheira. Sanjeia terminò la descrizione del primo giorno di battaglia. Dritareshtra sorrise pensando al valoroso Bhishma che aveva ucciso due eroi Pandava. Dopotutto sembrava che il destino favorisse le sue forze. Sentendo rinascere la speranza, il re disse, le tue parole mi sono gradite perché sembrano preludere alla vittoria. Il mio cuore non prova vergogna al ricordo dei nostri soprusi sui Pandava, fatto in sé vergognoso. Dritareshtra rimase in silenzio per qualche attimo e poi disse sospirando. Oh Sanjeia, anche sapendo dei nostri successi, non posso giustificare la guerra che il mio stupido figlio ha causato. A cosa può portare di buono una guerra? A parte i miei malvagi figli e di loro cattivi consiglieri. Credo che nessuno a questo mondo approvi questa guerra. La mente del re vacillava fra la speranza per i suoi figli ed il dolore per la morte inevitabile. Deikuru, talvolta veniva sopraffatto dalla disperazione quando pensava al valore, alla virtù e alla forza dei Pandava. Il rapporto sulla prima giornata era incoraggiante. Ma Arjuna aveva ancora da mostrare la sua forza. Come pure Bhima e gli altri generali dei Pandava. A Pandava, molti sarebbero morti prima che la faccenda fosse sistemata. Mandò via i servitori, scosse la testa e disse. La vittoria andrà indubbiamente ai retti. Sanjeia, ma le nostre ragioni sono davvero così sbagliate? Il trono non doveva essere mio. E Duryodhana non ha il primo diritto alla sovranità, anche più di Yudisseaira. Virgolette. Sanjeia non rispose. Da lungo tempo era stato stabilito che Pandu era il monarca di diritto. Dritareshtra era nato cieco, e questo lo squalificava dal governo del regno. Quindi i figli di Pandu erano gli eredi di almeno metà del regno, se non di tutto. Secondo Sanjeia questa era la volontà del signore. Non c'era nessuno che potesse eguagliare la virtù e la gentilezza dei Pandava. La terra non avrebbe potuto avere regnanti migliori. Inoltre l'alternativa era Duryodhana e i suoi fratelli. Dritareshtra, continuando a lottare con il suo conflitto interiore, continuò mestamente. Tuttavia non c'è scusa per la crudeltà dei miei figli contro i Pandava e la loro casta moglie. Presto vedremo il fuoco della loro rabbia incendiare il campo di battaglia. Oh Sanjeia, pensando all'ira che Duryodhana ha generato. Non riesco a riposare né di giorno né di notte. Sanjeia parlò affettuosamente ma con franchezza. Tu hai creato questa situazione. Perché biasimi solo i tuoi figli? Il tuo rimorso assomiglia alla costruzione di una diga quando l'acqua è già andata via. Ascolta il mio resoconto dei fatti che si svolgono a Kurukshetra. E presto sarai consumato dal rimorso solitario mentre questa guerra prenderà il suo corso. Inevitabile. Dritarastra Atakwe e Sanjeia riprese la sua cronaca degli avvenimenti di Kurukshetra. Al ritorno all'accampamento alla fine del primo giorno di battaglia. Yudis e Aira convocò un consiglio di guerra. Si consultò con Krishna, che sedeva al suo fianco con indosso un'armatura d'oro e un elmo ingioiellato. O Govinda, il potente Bhishma consuma le nostre truppe come il fuoco divora l'erba secca. Non riusciamo nemmeno a guardarlo quando usa le sue armi divine. E le nostre truppe fuggono non appena lo vedono. Forse potremmo battere Vayu, Varuna, o addirittura Yamaraya. Ma non credo che potremo sconfiggere Bhishma. La voce di Yudis e Aira era carica di dolore e proseguì. O Keshava. Con Bhishma come nemico penso che sia meglio ritirarsi nella foresta. Questa. Questa. È sbagliato sacrificare questi Ksetriya nel fuoco delle sue armi soltanto per riprendermi il regno. Guarda i miei fratelli. Oggi sono feriti, e hanno perso ricchezze e felicità per l'amore che hanno per me. Come faccio a chieder loro di soffrire ancora? Dedicherò il resto della mia vita all'ascesi e alle penitenze. Krishna rimase in silenzio. Sapeva che il re Pandava non aveva intenzione di abbandonare la lotta. Il primo giorno era andato male. Ed era naturale che si sentisse frustrato. Specialmente di fronte ad un guerriero come Bhishma. Yudis e Aira continuò. Sembra che Arjuna sia contenti di fare lo spettatore. Solo Bhishma ricorda i suoi doveri di Ksetriya e combatte con determinazione. Perché, o Krishna, il tuo amico Arjuna resta a guardare con indifferenza mentre Bhishma macella le nostre truppe? Dimmi, chi lo può fermare? Dobbiamo fare un piano per neutralizzarlo prima che ci distrugga tutto l'esercito. O Govinda, solo per grazia tua riavremo il regno dopo aver sterminato i nemici. Krishna replicò. O grande Bharata, non lasciarti sopraffare dal dolore. Sei circondato da grandi guerrieri che hanno dedicato cuore e anima alla tua causa. Anche io mi sto impegnando. Hai i tuoi fratelli, Drupada, Virata, Drishtediumna, Satyaki, Shikandi e molti altri. Sono tutti illustri guerrieri che non esiteremo a combattere. Shikandi sicuramente ucciderà Bhishma a suo tempo. Non disperarti. Yudis e Aira fu confortato da queste parole. Krishna diceva sempre la verità, ed era ovvio che voleva che la guerra continuasse. Inoltre non c'era più modo di fermarla. Yudis e Aira era preoccupato che i suoi sentimenti potessero aver scoraggiato le sue truppe. E guardando Drishtediumna disse, O eroe, tu sei stato nominato capo delle mie truppe. Mie truppe, così come Kartikeya comanda i celesti, porta il nostro esercito alla vittoria. Impegna tutto il tuo valore per attaccare i Kuru. Io ti seguirò con i miei fratelli e gli altri Ksetria. Drishtediumna rispose, O figlio di Prita, combatterò con ogni Kuru che mi troverò davanti. Che tutti quei re provino a fare del loro meglio. Io non temo nessuno, poi ucciderò Drona. Tutti i presenti esultarono. Poi Yudis e Aira discusse le strategie per il giorno seguente. Il suo esercito si sarebbe disposto secondo la Krauncha Vayua. La formazione a forma di corvo. Inventata da Briaspati, Ati, dopo che ebbe spiegato le posizioni dei guerrieri. L'esercito dei Pandava si riposò per la notte. Con la luna che illuminava le tende. Quando il sole sorse sul secondo giorno di battaglia. Le forze dei Pandava si disposero nella formazione Krauncha. Alla vista di quel formidabile schieramento. Con gli Adirata e i Marata disposti nei punti chiave. Duryodhana chiese a Bhishma di disporre le truppe nella posizione di contrasto. Bhishma dispose le truppe in un'altra potente Vayua. Le conchiglie e le trombe suonarono, e gli eserciti attaccarono. Bhishma condusse personalmente l'attacco dei Kaurava. Aggredendo i principali guerrieri Pandava condotti da Drista Dhyumna, Abhaimanyu, Bhima ed Arjuna, Dhyumna, 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 la Vayua dei Pandava traballò sotto l'attacco di Bhishma. E i guerrieri dei Kauri e i cavalieri caddero uno dopo l'altro. Le frecce dalle ali d'oro di Bhishma si bilavano nell'aria con precisione mortale. E le truppe dei Pandava erano terrorizzate. Vedendo la carneficina, Arjuna si infuriò. Vai o Yanardana, portami dal nonno. Sta distruggendo il nostro esercito e per questo io lo devo uccidere. Mentre attraversavano il campo di battaglia, Arjuna lanciò frecce in tutte le direzioni, uccidendo un immenso numero di Kaurava. Il suono della corda del suo arco, lo schiocco dei legacci di cuoio della sua armatura e il sibilo delle frecce che lasciavano il suo. Arco erano un fragore continuo. Bhishma lo vide arrivare. Il grande carro con i cavalli bianchi. La grande bandiera con la scimmia. E le altre numerose bandiere divine lo rendevano facilmente riconoscibile. Sciibile. Senza indugio Bhishma scagliò otto frecce ad asta lunga contro Arjuna. Mentre Duryodhana ne lanciava 60. Kripa 50 e Drona 25. 5. Anche altri potenti guerrieri diressero i loro colpi verso Arjuna. Benché colpito da ogni parte, Arjuna non vacillò. Ricambiò le frecce degli assalitori, trafiggendoli tutti. Satyaki, Virata, Dristadyumna e i figli di Draupadi vennero in suo aiuto mentre lui metteva sotto tiro Bhishma. Impegnando ciascuno uno o due eroi Kuru riuscirono a scoprire Bhishma. Bhishma mandò altre 80 frecce contro Arjuna che lo ferirono e lo fecero vacillare. E i Kaurava urlarono di gioia facendo infuriare Arjuna. Arjuna, lui riprese l'equilibrio e chiese a Krishna di guidare il carro verso i Kaurava. Attaccandoli con frecce a punta di denti di vitello. I Kaurava subirono l'attacco come un oceano battuto dal vento di tempesta. Le loro armature vennero fatte a pezzi, i loro archi frantumati. Arjuna li mise in fuga terrorizzati. Duryodhana si precipitò da Bhishma che aveva interrotto il suo attacco contro Arjuna. E gli disse, oh Sire, questo terribile eroe sta falciando le nostre truppe come un mietitore che taglia il grano. Perché lo lasci fare? A causa tua carna ha deposto le armi, e come risultato sembra che Arjuna ci farà tutti a pezzi. Agisci subito per proteggerci, oh figlio di Ganga. Bhishma guardò il principe spaventato e disse, maledetti i doveri degli Ksetriya. E spinse il suo carro verso Arjuna. Non voleva affrontare i Pandava, ma sapeva che era inevitabile. Duryodhana, Eshvattama e Dushashana lo seguirono ai fianchi e da dietro. I due a tirata, Bhishma e Arjuna, si scambiarono freccia con freccia, scagliando prima dieci, poi cento e mille. Arjuna lanciò talmente tante frecce che Bhishma sembrava coperto da una rete. Ma l'eroe Kuru le disperse con le sue e contrattaccò. Nessuno dei due riuscì a prendere il sopravvento. Krishna fu colpito da tre frecce al petto che fecero scorrere il suo sangue. Sembrava un albero di Kinsuka con brillanti fiori rossi. E stando in piedi sul carro. Lo faceva avanzare ed arretrare con bellissimi movimenti circolari così veloci che Bhishma faceva. Fatica a prendere la mira. Anche lui si muoveva rapidamente sul campo rendendo altrettanto difficile ad Arjuna di colpirlo. La terra tremava sotto le ruote dei carri, e sembrava pronta a spaccarsi. Si. Coloro che guardavano il duello erano attoniti. Non si poteva vedere differenze tra i due combattenti. O degli errori nelle loro tecniche di combattimento. La maggior parte del tempo restavano nascosti sotto nuvole di frecce. In cielo gli esseri divini dissero. Questi due sono invincibili a ogni essere umano o divino. Questo duello non avrà mai fine. Nel frattempo i due eserciti continuarono a combattere. Drona e Dristadyumna lottavano come leoni furiosi. In un duello non meno spettacolare di quello di Bhishma e Arjuna. Si trafissero a vicenda le corazze rimanendo fermi come le montagne dell'Himalaya. Dristadyumna. Cosciente di essere destinato ad uccidere Drona. Cercava l'occasione di ucciderlo. Ma Drona frustrò ripetutamente i suoi attacchi. Attacchi. Ad un certo punto Dristadyumna vide un'opportunità e lanciò un lungo dardo ornato di gemme. Vaiduria che volò come un fulmine verso Drona. Ma il momento in cui lo rilasciò. Drona lanciò tre frecce a punta di rasoio che lo fecero a pezzi a mezz'aria. Dristadyumna si infuriò e mandò una pioggia di frecce. Ma il guerriero Kuru le bloccò tutte e spezzò l'arco di Dristadyumna con una freccia a punta di falce. Poi uccise i suoi cavalli e distrusse il suo carro. Dristadyumna afferrò un'enorme mazza e balzò dal carro sfasciato. Drona colpì la sua mazza con una volata di frecce che la ridussero in mille pezzi. Dristadyumna estrasse la sua spada. E proteggendosi con lo scudo decorato da cento lune d'oro. Caricodrona che lo fermò con una serie di frecce uncinate costringendolo a parare le frecce con la spada e lo scudo. Bima lo prese sul suo carro e lo portò via. Dristadyumna prese un carro nuovo e tornò ad affrontare il suo avversario. Bima incontrò il re di Kalinga, Ketumat, ed il suo vasto esercito. Ketumat aveva anche il supporto di un altro re di nome Zrutaya, capo dei guerrieri Nishada. I due eserciti attaccarono Bima circondandolo con elefanti, cavalleggeri e fanti. Il Pandava si mise a ridere e scagliò frecce in tutte le direzioni. Le sue frecce, con la forza delle sue terribili braccia, trapassarono i corpi degli uomini e dei cavalli. Tuttavia le forze dei Kalinga e dei Nishada non cedettero. Altre truppe dei Pandava si mossero per aiutare Bima. I Mazzia, i Kedi, e i Karusha attaccarono contemporaneamente gli eserciti che lo circondavano. Si scatenò una lotta furibonda. Con il frastuono assordante delle grida degli animali ed il clangore delle armi. Lentamente i Nishada, combattendo con furia demoniaca, fecero arretrare i Kedi e i Mazzia. E Bima rimase solo sul suo carro. Circondato da migliaia di guerrieri. Impassibile, il Pandava mantenne la posizione, ricoprendo i Kalinga di una pioggia di frecce. Ketumat e suo figlio Sacradeva lo caricarono scagliando numerosi dardi. Bima ruggì e li parò con facilità. Sacradeva lanciò una serie di frecce che uccisero i cavalli di Bima. che rispose scagliando con terribile forza una mazza che colpì Sacradeva al petto uccidendolo. All'istante, all'istante, Ketumat, vedendo che suo figlio era stato ucciso, caricò furiosamente con le sue truppe. Bima prese una lunga spada forgiata col miglior acciaio azzurrino e uno scudo massiccio di pelle. Di toro decorato con falci di luna e soli d'oro. Saltò giù dal carro. E corse verso Ketumat a spada alzata. 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 Ketumat scagliò una freccia avvelenata. Ma il Pandava la tagliò al volo. E gridò nell'esaltazione della lotta. Ketumat preso da una furia tremenda. Lanciò altre 14 frecce con le punte di pietra affilata. E Bima le fece a pezzetti con la spada. Pada. Pada. Il fratello di Ketumat. Banumat. Che montava un elefante. Lo attaccò con un ruggito simile ad un leone. Un leone. Bima gridò più forte. E tutti i soldati si terrorizzarono e gli animali si paralizzarono per la paura. Bima corse verso Banumat. Sali sul suo elefante. E con un terribile fendente lo tagliò in due parti che caddero ai lati dell'elefante. Poi. Con un altro fendente. Troncò la proboscide dell'elefante e saltò giù dalla groppa dell'animale morente urlando. Ferocemente. I Kaurava lo guardarono inorriditi. Bima si mise a roteare come una girandola di fuoco e si scavò un varco fra le file del nemico con. La sua spada grondante sangue. Fece volare teste e braccia macellando un numero immenso di guerrieri ed animali. E si mosse per il campo con la velocità di un falco. Uccidendo chiunque gli si trovava davanti. Davanti. Sembrava Yamarai al tempo della distruzione universale. E le truppe dei Kaurava si dispersero nel panico. Bima si muoveva girando in cerchio e roteando su se stesso. Facendo balzi laterali. Saltando in alto. In avanti ed indietro come un danzatore impazzito. La sua spada balenava tutto il tempo e i soldati urlavano mentre venivano macellati. E centinaia di elefanti caddero con tremendi barriti d'agonia. Bima squarciò le file sia dei Kalinga che dei Nishada. Ed il terreno si ricoprì di armature spezzate. Rottami di armi. Lance. Archi. Mazze. Dardi. Asce. Tutti ridotti in briciole. 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 Nessuno riusciva a fermarlo. La terra intorno era diventata una palude di sangue e carne. Zrutayash lo affrontò per salvare i suoi soldati lanciandogli una sfida e scagliandogli cento. Frecce. Frecce. Trafitto come un elefante dall'uncino, Bima si infuriò al di là di ogni limite. Il suo Auriga Vishoka gli aveva portato un carro nuovo e lui vi balzò sopra. E gridando, aspettami. Virgolette. Raggiunse Zrutayash e scagliò nove frecce di ferro. Tre di queste lo colpirono con la forza del fulmine e lo uccisero. Poi si voltò verso Ketumat e lo uccise con delle frecce che uscirono dal suo arco con il rombo del tuono. Tuono. I restanti Kalinga circondarono Bima a centinaia di migliaia, lanciandogli contro le loro armi. Bima li respinse. Poi scese dal carro muovendo la sua mazza così rapidamente che nessuno riuscì a toccarlo. E schiacciò i nemici mettendoli in fuga. In fuga. Bima suonò ripetutamente la conchiglia. Incutendo il panico nei Caurava. E continuò a sterminare i Kalinga che sembravano in trance. Con grande difficoltà il loro comandante riuscì a radunare i pochi superstiti. Bima rimontò sul carro per affrontare le truppe che venivano in aiuto dei Kalinga. Drista Diumna venne in suo aiuto con un gran numero di guerrieri pandava. La battaglia infuriava, ed il sole si avvicinò all'orizzonte. Al crepuscolo gli eserciti si ritirarono dal campo di battaglia per tornare ai loro accampamenti. Lasciando il terreno agli avvoltoi e agli sciacalli.